Nicolanti 35 e guardia Cos'è per te la palacanestro? La palacanestro per me è una passione e poi un modo per sfogarmi dopo una giornata di lavoro E cosa significa per te giocare con lo Swicky Rocks? È un modo per condividere tempo con i miei amici e per te lo stesso divertirmi con la mia grande passione Che cos'è per te Fan First? Fan First per me è una tripla sulla scadetta